buongiorno mister Andrea Colella Juventus TV ben ritrovato io le chiedo da un punto di vista emotivo come vi avvicinate a questo a questo inizio dopo un bel precampionato grazie assoluto buongiorno a tutti ben trovati per quanto riguarda dal punto di vista emotivo è normale la prima partita è sempre c'è sempre curiosità da parte di tutti perché comunque all'inizio della nuova stagione inizia il campionato iniziano le partite dove contano i punti quindi domani sarà la prima di un percorso che durerà fino al 25 maggio buongiorno mister Giovanni Albanese Sport Italia le parlo di mercato si arrivasse con questa rosa che ha oggi fino al termine della stagione quindi ne arrivi ma neanche uscite questa Juve è pronta per fare la corsa a scudetto innanzitutto per quanto riguarda il mercato ci pensa la società la società è vigile su quello che che dobbiamo fare sono molto contento della rosa che ho a disposizione ma soprattutto per come sta lavorando il gruppo che sta lavorando molto bene ora domani è normale che che inizia le partite che contano e saranno comunque partite completamente diverse poi dove possiamo arrivare lo vedremo strada facendo perché comunque la squadra ampi margini miglioramento e dobbiamo essere dovremmo essere bravi ad arrivare ad aprile ed essere nelle prime quattro posizioni buongiorno Giovanni Guardana Sky Sport le volevo chiedere visto che si tratta di una stagione anomala no perché non ci sono le coppe anomala anche per lei insomma non so da quanto tempo non capitava alla Juventus non accadeva dal 2011 e alla fine di quella stagione vinse lo scudetto da outsider proprio contro il Milan suo le chiedo se il fatto di non avere le coppe mette un po' più di pressione sulla Juventus visto che comunque è certamente un vantaggio da quel punto di vista non giocare ogni tre giorni nella fase cruciale della stagione grazie non so se è un vantaggio o uno svantaggio se è un vantaggio lo vedremo so solamente una cosa che tecnicamente cambia il modo di lavorare perché giocheremo una volta a settimana avremo più tempo per preparare le partite dall'altra parte però nascordiamoci che non giocare la Champions sicuramente c'è amarezza c'è dispiacere perché comunque il club è abituato a partecipare alla Champions io credo che siano 14 anni dal 2010 che a parte i due anni che è stato fermo ho avuto la fortuna sempre di partecipare alla Champions che è un motivo d'orgoglio è una compensazione talmente importante quindi non so se è vantaggio o svantaggio so solamente che non partecipare alla Champions non è una bella cosa soprattutto perché l'avevamo conquistata sul campo e quindi bisogna essere bravi a trasformare diciamo questa chiamiamola amarezza che abbiamo a non giocarla in rabbia per cercare di ottenere risultato per giocare l'anno prossimo Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport hai parlato già di mercato mancano dieci giorni alla fine a questo punto visto che non aver cambiato tanto può essere anche un vantaggio firmeresti per arrivare così senza che ti vendano nessuno comunque nessuno di importante alla fine del mercato? Io non firmo assolutamente niente io so solamente che la squadra sta lavorando bene ci sono dei giocatori che hanno un anno di esperienza in più alla Juventus e quindi potranno solo che far meglio ripeto sono molto contento di come stiamo lavorando però il calcio d'estate è fine a se stesso sicuramente si vengono già sono tra viste le buone cose ma domani iniziano le partite che contano perché contano i tre punti Buongiorno mister Francesco Pellino agenzia area domani inizia la nuova stagione le volevo chiedere se prevale più il sentimento di rivalsa per tutto ciò che è successo la passata stagione oppure viene messo tutto da parte e si riparte da zero? Non è una rivalza su quello che è successo la scorsa stagione perché comunque sono state cose esterne noi bisogna pensare a lavorare un vantaggio è che comunque è stato chiuso tutto e quindi ora ci possiamo concentrare e sappiamo soprattutto che il risultato che otterremo sul campo ci consentirà di poter giocare o non giocare alla Champions l'anno prossimo che quello è l'obiettivo principale perché ripeto non giocare alla Champions sicuramente per il DNA del club e per tutti i giocatori per l'allenatore per tutti quelli che hanno una continenza dopo tanti anni sicuramente è una cosa che ci lascia un po' spiazzati Buongiorno mister Marco Venditti signora Mia Calcio News ecco avrò avuto sicuramente tempo per riflettere su quello che bisogna fare il prossimo anno appunto sul prossimo anno se lei pensa di apportare delle modifiche al tipo di gioco ma anche al tipo di approccio di gara cioè il mantenimento della conservazione dell'eventuale vantaggio ecco questo avrò avuto tempo sicuramente per pensare a questo qua quali saranno le modifiche grazie le modifiche ogni volta che partiamo all'inizio della stagione insieme allo staff valutiamo le caratteristiche dei giocatori a seconda delle caratteristiche dei giocatori imposti il lavoro è questo che abbiamo fatto una cosa che sicuramente c'è si nota però va mantenuta e per mantenerla e aumentarla bisogna cercare di ottenere risultati è questo grande entusiasmo che c'è questa voglia di fare e ripeto è questa voglia che di far passare di giocare quest'anno soprattutto per essere per conquistarci di nuovo la Champions anche se ripeto l'anno scorso sul campo i ragazzi l'hanno conquistata per poterla giocare l'anno prossimo buongiorno romeoagressigol.com le chiedo mister come è partito il suo rapporto con Giuntoli e cosa ha portato il direttore nel vostro lavoro quotidiano grazie con il direttore siamo in ottimi rapporti siamo sia con lui che con Giovanni Manna che stanno lavorando bene direi una figura importante all'interno della società si è ambientata bene ha trovato un gruppo di lavoro ottimo che l'ha accolto nel migliore dei modi lui si è integrato e si sta integrando molto bene e di questo sono molto contento Giorno Massimo Lanari Rai TGR Piemonte Chiesa e Vlauvi ci si aspetta molto da loro chiaramente volevo chiedere in questi giorni su cosa avete lavorato su cosa state lavorando di più sia sotto il profilo tecnico che magari sotto una loro maggiore partecipazione al gioco della squadra Chiesa l'ho già detto diverse volte Federica è tornato rispetto all'anno scorso con più consapevolezza con più serenità perché comunque ha passato un anno difficile dopo l'infortune che ha avuto e ha una gamba diversa ma basta vederlo solo come sono strutturate le sue gambe quest'anno rispetto a quelle che erano l'anno scorso per quanto riguarda Dujan ha passato un momento di alti e bassi perché anche lui ha avuto problemi di pubalgia ora sta sta meglio non è ancora al 100% perché comunque ha saltato diciamo parte della preparazione però domenica sabato contro l'Atalanta ha fatto ha fatto un buon primo tempo poi abbiamo Milic abbiamo Ken che purtroppo domani non sarà a disposizione perché comunque ha preso un colpo e quindi non è a disposizione poi abbiamo Ildiz che comunque è un giocatore che arriva dal settore giovanile ma veramente è un bravo giocatore e quindi nel reparto d'attacco i giocatori che ho sono sono molto contenti e soddisfatti Buongiorno Alessandra D'Angelo Rai Sport ha detto che il calcio d'estate va preso con le pinze mettiamola così però ha fatto notizia in questi giorni anche il ritorno al gol di Pogba nell'amichevole infamice a porte chiuse con l'Alessandria e quindi le chiedo come sta Pogba e cosa si aspetta da lui quest'anno e se già sarà tra i convocati Di polso sono contento per gli ultimi per gli ultimi giorni per la partitella che ha fatto 40 minuti che ha fatto l'altro giorno è normale un giocatore che è diverso dagli altri purtroppo ha subito questo infortunio l'anno scorso quindi viene da un anno un anno e mezzo praticamente di inattività e averlo a disposizione diciamo tutti i giorni per tutte le partite sarebbe già un bel vantaggio per noi poi che possa giocare 20 minuti 30 è normale che si spera che non abbia più intoppi e che la condizione possa solamente crescere Salve mister Nicola Gallo Mediapason lei è sempre stato molto bravo a fare le carte al campionato e i numeri allora le faccio la domanda classica quest'anno quanti punti ci andranno in un momento in cui sembra che la qualità massima sia un po' scesa perché siamo in cudine non martello con gli arabi e la Premier League e se proprio in virtù di questo si è un pochettino ridotto il gap con la borghesia le squadre di mezza classifica o a ridosso delle zone europee che poi saranno quelle che magari con cui ci si giocherà lo scudetto oltre gli sconti diretti saranno partite un pochettino più complicate qual è la griglia di partenza? La griglia di partenza di solito chi vince è favorito quindi Napoli è favorito per lo scudetto e poi comunque c'è l'Inte che è una scuola forte il Milan comunque che la Lazio comunque l'anno scorso è arrivata seconda è un campionato ancora tutto da vedere non abbiamo ancora iniziato poi magari fra un po' di domeniche si riuscirà a capire più o meno quale sarà la tendenza e quale sarà la prospettiva dei punti in campionato una cosa sicuramente che noi dovremo migliorare sono le parti in trasferta perché l'anno scorso la differenza tra noi vedendo i punti fatti tra noi e il Napoli che ha vinto lo scudetto sono stati i 15 punti di differenza che ci sono stati nelle trasferte noi abbiamo fatto 30 punti in trasferta credo e il Napoli ha fatto i 45 e questa è stata praticamente la differenza del campionato Buongiorno mister Alberto Mauro il messaggero Juventus News 24 le volevo chiedere un commento sull'addio di Roberto Mancini alla panchina nazionale e poi il nuovo ingaggio di Spalletti grazie commento non posso dare perché quando da di fuori non si sanno le cose è difficile è impossibile anzi posso solamente dire che Roberto ha fatto un ottimo lavoro nazionale ha vinto in europeo poi avrà i suoi buoni motivi per aver dato le dimissioni per quanto riguarda invece Spalletti gli faccio un grosso in bocca al lupo per il nuovo incarico un incarico importante che gli viene dato dopo una vittoria allo Scudetto Salve Ministro Rodinio La Stampa due anni fa la Juventus lei ripartiva con la Juventus da Udine domani sembra veramente un potenziale anno zero anche se sarà il terzo invece di questa sua nuova avventura io le volevo chiedere qual è la differenza rispetto a due anni fa quindi dove è cambiata la Juve dove è cambiata anche lei e alla fine quale sarà l'obiettivo per cui lei sarà soddisfatto di questa stagione grazie per quanto riguarda l'anno zero non è male l'anno zero perché ogni anno diciamo si lavora per migliorare quello che è stato fatto l'anno prima poi cambiano i giocatori quindi direi bisogna lavorare su quelle che abbiamo con caratteristiche diverse per quanto riguarda l'obiettivo sarà disfatto a fine anno di aver lavorato bene con la squadra e soprattutto di aver ottenuto risultati risultati qual è io credo che come ho sempre detto è necessario fare i titoli la Juventus lotta per vincere lo Scudetto la Juventus quando parte comunque parte per ottenere il massimo dei risultati partendo però da un obiettivo minimo quello di rientrare in Champions a giocarla perché ripeto l'anno scorso la squadra in campo ha ottenuto la Champions l'avrebbe ottenuta quindi su questo non ci sono nessun dubbi quindi partiamo facciamo passetta alla volta bisogna crescere bisogna crescere in condizione fisica ma soprattutto mantenere con l'entusiasmo quella voglia di andare a prendersi delle vittorie che passano di settimana in settimana e non più di tre giorni in tre giorni Ciao Gamma Repubblica la Juventus in questi giorni sembra particolarmente attiva sul mercato sia sul fronte entrate sia su quelle uscite non so se è su tuo input o meno volevo chiederti se dobbiamo aspettarci o ti aspetti che la rosa del 2 settembre sarà comunque sensibilmente diversa da quella che domani porterai a Udine io credo di no perché siamo contenti così di quello che abbiamo poi da qui al 2 settembre possono capitare tante cose ma soprattutto bisognerà fare delle valutazioni su quello che sarà il numero dei giocatori da tenere perché abbiamo dei giocatori che magari hanno bisogno di giocare e che magari valuteremo insieme a Giuntoli e a Manna ai due direttori per capire qual è il percorso migliore per questi giocatori da farli fare perché è inutile rimanere in 23-24 quando avremo una partita solamente a disposizione durante la settimana eventualmente avremo le 5 partite di Coppa Italia Buongiorno Stefano Lanzo Tutto Sport volevo chiederle se domani sulle fasce dobbiamo aspettarci i due nuovi UEA e Cambiaso e se Fagioli è pronto grazie Fagioli si è allenato bene diciamo è pronto per essere a disposizione devo ancora decidere lì a metà campo che far giocare per quanto riguarda sulle fasce direi ho quattro giocatori per due posti e quindi dopo oggi pomeriggio valuterò i da farsi anche perché sarà la prima partita i cambi saranno importanti farà molto caldo e quindi bisogna essere tutti pronti direi che le domande sono finite oggi valuterò se portarla ad Udine o no questo sì ok allora grazie a tutti grazie buona giornata grazie